Allo Patrick Moyà, Francesca ciao a tutti e il nostro Rantokale non ha ancora potuto parlare giusto? Era partita mia. Vai pure. No, Mike's Rantokale, è troppo basso questo microfono per te? No, dipende. No, dipende. Buonasera a tutti. Buonsoir. Ehi, she's happy for the day. She will hear his voice. But in the darkness of a Salma extra, she gets a surprise, I guess. A man is a girl. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Good night! Grazie.